Gio già sa vita, morte e miracoli della signora no dai ma questo mi tocca a fallo in co-op via cioè, mi era fo a fallo insomma magari ho livellato male però da solo così non ce la fo a fallo ma poi ho sto scudo di merda ma che cazzo ce fo? ah dear little ocelot where have you gone? are you hiding from me? come out come out you were born a child of dragons what could you possibly do here? no, no questo riesce fuori il mostro dalla panza è incancarito ragazzi quando va a sta fase è incancarito è incancarito ragazzi è una cosa infermabile guardate che fa guardate che fa però l'anello fiat parte il sopporto lavoro è incancarito è incancarito anche attraverso il muro fatte morire qui? ah qui? ma qui che io fa? ah sì la compenetrazione sì ma c'è là anche lui la compenetrazione qui che? qui si incastra e va bene qui lui si incastra e va bene ci metto via aspetta provo a fare una cosa cazzo ci vogliono le bombe quelle bombe qui le ammazzi pagato pagato questo ci vorrebbero tante bombe ok abbiamo sgamato abbiamo sgamato con uccidere questo si incastra lì go al santuario compro 200 bombe eh ma si vede però vedi che è pagato è pagato ti metti qui ti incominci a tirare le bombe va bene posso te ritorno in cielo più ah però gli colpisce anche l'uso se capisci bene quando smette di attaccare ok telecamera mamma mia la telecamera è scandalosa via non esagerò ecco madonna ragazzi è 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Via! Sarà ignobile ma... Sarà ignobile ma... Qua, qua, resta qua. Sì, sulla tavola delle texture soprattutto. Grazie a tutti. Porco d'ecco. Mi esagerà. Ok, botta per botta. Non so, è pannoso, però questo lo pubblico, eh. Poi voglio vedere... Eh, ma così non si gioca. Ma ammazzate... Qui... 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 Ci... C'è bagano, bossa bagano. qui tocca il rotolà perchè se no ti chiappa con la coda madonna che sega piano piano con pazienza se c'erano tre bombe è finito se c'erano tre bombe avevo fatto preso qua ma ragazzi con il Miyazaki ragazzi Miyazaki cosa avrà voluto dirci qui Miyazaki è la doppia una botta manca ancora fa quella pesante come fa belli paghi eh allora facciamo tutti un applauso a questa radice di pietra che ha ucciso di fatto il boss che non l'ho ucciso io l'ha ucciso questa radice di questo albero questa la salvo questa la salvo e la pubblico perchè cioè vi mettete qui e ammazzate questo sto celotto come si chiama o celotto dopo tante pene questa è la radice della verità vi mettete qui dietro c'è anche un messaggino lui si incastra lì dietro e non si scastra più quindi un attimo che salvo la clip ok la clip video l'ho salvata si era il frame lurker frame lurker ma su demon sono salve cioè su dieci nove sono buggati ce l'ho fatta anch'io ma nemico standard ah falò eh ah ragazzi questo è tostissimo se non fai questa cosa penso che sono cazzi così eh a livello così con questi potenziamenti che ho quindi viaggiamo a livello